Ciclicamente torna una grave criticità a Battipaglia. A segnalarla è l'associazione Battilaciotola, realtà molto attiva in città che denuncia la presenza per le strade battipagliesi di bocconi ed esche avvelenate. Ci segnalano, scrivono sui social, numerosi casi di avvelenamento di cani e gatti in varie zone del territorio comunale di Battipaglia, anche nel quartiere Taverna e incluse aree private come giardini condominali o di ville. Non vogliamo in generale allarmismo le loro parole, ma deve essere posta massima attenzione. Questa è opera di persone deviate e cattive. Ricordiamo a tutti che oltre alla somministrazione di vitamina K è necessario conoscere il veleno ingerito dall'animale per poter intervenire in modo efficace, per cui si consiglia di prelevare il campione del cibo ingerito badando di non venirne a contatto diretto, consigliano. Affinché il veterinario possa procedere ad analisi e risalire la tipologia. In questo modo si potrà successivamente intervenire con la flebo e con l'antidoto, tentando di salvare la vita ai nostri amici animali. Quanto detto da batti la ciotola era già avvenuto nelle scorse settimane e l'allarme aveva fatto in poco tempo il giro della rete, in particolare come ovvio tra i padroni di cani che portano i propri amici a quattro zampe a passeggiare in città.